Gesù ok 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 ci sono delle foto oh mio dio bene buongiorno cominciamo molto bene direi con questo Ok allora exo tempo come back dopo un anno e mezzo un anno passato sto letteralmente tremando ok prima di iniziare lascio i miei social qua quindi metterò da qualche parte instagram twitter cominciamo a vedere questo video perché sto tremando Ok Allora cominciando da questa cosa che già non si vede niente però io sono già in ansia e ok non ce la posso fare non arrivo alla fine di questo video comunque Beh mi ho bloccato giusto su Kai così è bello Bello come il sole Fermi 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 Cos'era quella cosa che ho appena visto cos'era quella cosa che ho appena visto Cos'era quella cosa che ho appena visto Ok Tutto a posto Che cazzo è Mi sembra di riconoscere quel luogo Ha dei vibes molto familiari Non dei vibes Riconosco quel luogo comunque Oh! I can't I can't I can't I can't I can't Sì! Ok ho visto Yishin Ok ok con calma Sto cercando di trattenermi Anche se in realtà non riesco a trattenermi Perché oh mio dio cos'è questa canzone Perché è così bella Sto letteralmente quasi piangendo Ok in questo momento Non tanto per la canzone o per il video Siamo per tutto l'insieme di cose Mio dio vi stai Yishin Ok Non so come riesco Ancora mancano due minuti Siamo sulla metà Ok Sono belli Sono belli sono Yishin Oh Gesù No 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 fermi 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 Prima di vedere loro sulla moto C'è lei C'è Yishin Lei Amore mio Sei stupendo Sei stupendo Sei stupendo Eoran Ancora mancano Iishin Eoseng Ancora mancano Ancora mancano Ad designs E' un po' Questo chi è? Ok, ho bisogno di riguardare questo video quattro volte prima di riuscire a capire i collegamenti perché in questo momento non sono molto ok Mi piace un sacco la canzone, è veramente 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 carina ed accattivante Don't mess up my tempo E loro sono stupendi, c'è gli Shing e quindi penso che sia tutto dire E loro sono bellissimi e niente Bye Oh mio Dio